Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Parla Daniele De Martino a nome mio e a nome di tutta la Siamusica, nonché per l'artista fratello Andrea Zeta. Ragazzi, stiamo leggendo dei momenti bruttissimi su questo ragazzo, ma voi conoscete Andrea Zeta? Chi è? Realmente? No, ve lo diciamo noi. È un fratello nostro, ma soprattutto ho avuto modo di lavorarci. È un bravissimo ragazzo, umile, semplice, ma soprattutto un ragazzo buono, d'animo, che a parole non ve lo so spiegare, ma chi lo conosce, chi lo ha conosciuto, sa chi è realmente. Dobbiamo pubblicare e scrivere le cose belle che lui fa artisticamente, i suoi gesti di umiltà, le sue canzoni, ma soprattutto le sue serate. Non pubblichiamo quello che stiamo vedendo in giro. Sono delle brutte cose che si chiariranno e ritornerà più forte di prima insieme a tutti quanti noi, insieme alla nostra squadra, la Siamusica. Quindi parlo anche per tutti gli artisti. Cerchiamo di fare forza ad Andrea Zeta e restare tutti uniti per lui. Ok ragazzi? Pubblichiamo le cose belle che fa Andrea Zeta e che continuerà a fare. Ok? Un bacio a tutti. Ciao a tutti.